Ciao a tutti, quarto episodio, ce l'avevamo lasciati proprio qua, devo essere scappati, cioè nei video precedenti siamo quasi esclusivamente scappati da tutto, andavamo qua e dobbiamo cercare di capire cosa vuole fare, come scappati da qui, questa è una sorta di richiesta tipo, un po' cosa bisogna fare, bisogna sicuramente andare qua, oddio, ma io sono fantasma, e cosa c'è? No, una cariola, vieni a scoprire come si fa, forse, per interagire, pensi, si sposta lì, per inquadrare, indietro, pinge l'oggetto e te, ma guarda che non già ti puoi anche, io, occhio di Knot, no, 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 devi andare, devi andare, ho capito, e te sono andata di nulla perché si gira, si gira, si gira, si gira, si gira, si gira, assolutamente, via, pa, ma io, ah no, non era lei, eh sì, non si sa, no, non è lei, ma io, guarda dove siamo ora, boia, tutto questo asino, ok, 27 episodi per di, per arrivati va, arrivati va, solo perché, eh, le rovetevano le cose, che si fa gioco, sì, io voglio passare di lì, il senso, perché c'è lei e non mi dai, ok, lo devi subito, mi senti, ancora, occhio di gatto, non vai, no, però questo, no, tanto devi andare, secondo me lì, poi si è bloccata, torna indietro, no, no, devi andare lì, però è il secondo me, c'è, almeno, salvataggio, vai, eccola, allora c'era, ora ti devi levare di uno, per capire, perché cosa bisogna fa, c'è, la becchi lì e poi, eh, guarda, per interagire, guarda, oh, via, vai, 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 via e mezzo, come siamo, non avete visto neanche, come è successo, guardate volte in video precedente, perché, eh, siamo dei brodi, e non so se non sarebbe stato troppo lungo, comunque, c'è questo carrettino, vedi, da spinge, non si sa veramente, no, non si guarda, direttamente, non si sa, non si sa veramente, come abbiamo fatto a far sparire lei, perché, comunque, lei è sparita, no, e niente, siamo contenti, io ratorno ai joystick, stai, oh, bello, si, lui mi garba d'amore, buongiorno, se si muove, prendo lo schizzo, te lo giusti, no, 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 non è niente, non è niente, non è niente, vai, no, entro Iesa, guardaci, oh, ancora lui, ancora, Magalli, no, come si sa, Magalli, effettivamente, Magalli, si, ancora, si, ancora, come si, Vigliano Ferrara, perché, bello, almeno lì però c'è la luce, però c'è Gesù che si è saltato, ma non è Gesù, ma che è, allora si muove, tra l'altro, come se arriva lì, voglio tirare l'addosso, eh, ma ti dai, vedi, ma vai niente, ma non ci sta ma non ci sta, ma ci sta parlando, ho capito, guardano da lontani, un moore, muore, uccidemi, devi uccidemi i carbonci no, oggi, non esto不起 non lo calcio, io so mortgage non ma dove l'idea non mi ascolti, no, ma il Анp Besavenci attivi come vedi? forse la farà qualcosa a lui eccolo il ciccione! smagnotte! notte! invece vallate all'occhio di nocte se in batteria vi così la video è più bello! non esco! fa nulla! aspetta voglio vedere cosa succede bello! fatti la pelle! si ci vede! è da fare infame! dentro c'è qualcuno! quasi ma è una strozza! li apri un POOM! nella groppa all'inizio! la persona in fronte ha la destruttura del mondo nella sua casa! ma vallatio è un'acostica! ma vallatio è un anima! il padre di fai è escapato! si prenderà il suo figlio prima del sole! abbiamo solo questi pochi ore per trovare e maturare e salvare questo paradiso da l'acqua! ma vallatio! ma vallatio! 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 la roba che è quasi modo vieni vieni dai le due pelle giulio golea lo so vorresti veder fan invece non puoi dai riquadrati spazio spazio il valore a tavolo del sito l'occhio asci e di evo bovucobino anche se non aveva un eserrimo vorrei che la donna in questione fosse lì no no penso sia la sua scusa Mary siamo a Mary no invece guarda sto parlando di la donna lei è lì ma qui c'è ho capito ma la sua moglie cioè tortura la sua moglie e lui infatti lui dice no e siamo nelle mani del signore a questo punto ti dico dove è ma scusa ma noi dobbiamo uscire bello facciamo una foto sono usciuti tutti dove cazzo non andiamo aspetta poi tende tutto e una volta e poi si va bene si va bene e bene ma buona tavola chiudi addio addio scappa scappa non viene la lucciona non viene la classe la lucciona che ci serva che scappa però corri è troppo veloce infatti se non è fatta apposta che devi scappare qui vai 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 lì ora interagisci non si muove ok ok vai vai eccolo non sta fermo nel frattempo aspetta che tu avrà vai vai sai che ho detto io non ti ricorda niente si lo ricordo me lo ricordo anche lì ma la postura insomma uno il primo oi oi eccoli dei eccoli ma va diventa lì salta mamma mia che ci diciamo ora 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 io farò la pila c'è la pila che ce l'ha fatto dai teni la pila che non sei fissato vai no no però ora ce l'abbiamo fatta ora e ora e ora bisogna fare così boh vai vai va bene scivola a casa non è ok c'era anche l'impianto di rosa ah no non lo so bisogna entra qui dentro sì le menti oh ma chi è ma bacio a parlare invece no fermo fermo soffri i campi giorno e il noto ma adesso intanto quando mi bisogna basta sì sì c'è il tuo casino nel viso non ti cavare nemmeno non mi cavare non mi cavare c'è una seratura c'è una seratura? no vabbè niente insieme vabbè niente vabbè niente vabbè niente vabbè niente vabbè niente carica d ma la 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 scappa e te pare ti fa un zicone chi lo sa bravo vai nell'erba sei un semplice cazzo di musica vai no no vabbè niente ci vede sono d'accordissimo con te volete facendo ma se non sai per cazzo di verla e vai alla scena ti? vabbè niente vabbè niente vai sbagliata chiaramente si pegliano ma non si leggano nemmeno vabbè niente che vabbè provando tutto dritto con chiudere la cosa vabbè non fa qualcosa come lo so per te non bucicchia il punto che sei rimanere più alto vabbè riservate in un posto accanto al troppo vabbè io seguirei la riuscienza ma ci siamo non ci siamo questo è una demora che sa ma la voglio chiudere c'era uno non c'è, non ti dà nessuna entra lì, va mulino bianco rosetta deve esserci un modo per fermare la ruota aspetta, non mi andava tutto via, ve lo so è la ruota è la ruota che giro, si eccoci qui prendiamo questa gege bello aspetta se io bisogna passare appena c'erano e spazzettino vedrai no, quello forse succede dopo non lo so non lo so non lo so vediamo io subito subito c'è problema ciao 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 hai visto a casa? gira! tocca ripetuta e lo sapevo e lo sapevo dunque abbiamo capito cosa dobbiamo fare quando si fa bene qualcosa vai a posto vai e io tenevo tipo come ti gioco per delle porte insomma l'ho portato stasera non lo so così dovrebbe vincere ora scommessa di valini bisogna ritornare lì esattamente per piazzettine se l'ha visto che non bisogna passarci sotto perché l'abbiamo fermata ok ok per coglioni era una scommessa di valini anche destra ma non l'ho vista no t'ha visto t'ha visto e ora richiude la porta nel viso stronzo va dentro chiudi a cia vai riuscire a vedere la storia eccolo che dai ragazzi ma è perchè ti devi consigliati c c c c c 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 8 8 10 9 10 10 11 12 12 12 13 12 32 13 14 14 16 15 16 16 16 16 18 16 18 20 18 Grazie per la visione!